Allora, mi interessa sapere solo se credi che noi siamo liberi di scegliere qualsiasi cosa o il mondo esterno ci influenza talmente tanto da non essere liberi, l'illusione della libertà. Enrico, questa è una bella domanda. Prima di tutto non esiste la libertà, perché se esistesse la libertà io potrei dire Enrico, vengo da te e immediatamente sono da te. No, perché sono dentro un corpo che mi limita nei movimenti, quindi già questa non è libertà. Poi non esiste la libertà perché? Perché la libertà si presuppone che tu possa fare quello che vuoi, non puoi fare quello che vuoi o quello che desideri in quel momento. Magari vedi una bella ragazza, ma non puoi dire Ehi, ciao, ho voglia di baciarti col cazzo, perdite una roba banale. Quindi noi non siamo liberi di fare ciò che vogliamo, tanto per cominciare, ciò che desideriamo in quel momento, ma siamo condizionati, siamo tutti condizionati da un corpo, da delle regole comunque che sono anche giuste, da dei semafori. Non puoi passare col rosso. Ha voglia di passare col rosso? No, non puoi. La tua libertà finisce dove inizia la libertà di un altro, questa è l'anarchia. Ed è questo già, c'è un limite, vedi? Che la tua libertà finisce dove inizia quella di un altro. Quindi condizionamenti ci sono comunque. Poi esiste un'altra cosa invece, quindi la libertà non esiste. Esiste l'ipnosi collettiva che è un'altra cosa. L'ipnosi collettiva è quella che ti fa dire, ti fa credere di aver deciso di scegliere. E quello è sbagliatissimo. Credi di aver deciso di scegliere una canzone, ma invece è un algoritmo che te la propone. Credi di aver deciso di scegliere chi votare, ma invece è una ipnosi che te la propone. Credi di aver scelto di decidere che cosa è giusto per la tua salute, ma invece te l'hanno imposto. Ecco, questo è l'ipnosi. L'ipnosi, credi di pensare chi sia la nazione giusta in una guerra, ma invece è quello che te lo fanno pensare. Questo è l'ipnosi collettiva, che è un'altra cosa, diversa dalla libertà. Nessuno di noi è libero. Noi non siamo liberi. Noi abbiamo un compito. Siamo qui con un compito. E non abbiamo la libertà di trasgredire al compito che noi abbiamo scelto prima di nascere. Noi scegliamo di nascere. Scegliamo dove nascere, da chi nascere, in quale era nascere. E prima di nascere ci dicono quello che ci succederà. E noi sottoscriviamo. Ok? Questo accade. Non come il consenso che diamo, che si dà in certe occasioni, senza neanche dirci le controindicazioni. Ok? Quindi noi scegliamo di nascere. Nel momento in cui firmiamo un contratto abbiamo un binario da seguire, che è quello del destino e delle azioni e del percorso che abbiamo scelto di fare. Se trasgrediamo si deraglia. Puoi trasgredire. Si chiama libero arbitrio, ma non è libertà. È libero arbitrio che esiste solo per sbagliare. Perché non esiste un libero arbitrio. Perché noi abbiamo un compito. Quindi non hai la libertà di trasgredire da questo compito. Il libero arbitrio non esiste. Però c'è. C'è anche il libero arbitrio di decidere di porre fino alla tua vita. Ma non è una libertà. È una tua scelta. Che non è contemplata. Perché la resa non è mai contemplata. Si va avanti fino a che te lo permetteranno. Me lo disse Beneghetti. Mi disse, lei è una bella anima. Continui così finché glielo permetteranno. Quindi questo è. Per rispondere alla tua domanda. Mi interessa per sapere, sono sicurezza, che siamo liberi di scegliere qualsiasi cosa o il mondo esterno ci influenza talmente tanto da non essere liberi. L'illusione della libertà. Enrico Bianchi, quella è ipnosi. Noi non siamo liberi. Noi non siamo liberi di ribellarci ai nostri genitori, perché l'abbiamo scelto prima. Noi non siamo liberi di ribellarci a ciò che ci accade, perché lo sapevamo. Lo sapevamo prima. A meno che ciò che ci accade non sia la conseguenza di una nostra trasgressione, di un nostro deviare dal percorso. Devi dal percorso, vieni punito. E allora devi accettare la punizione. è importante. La libertà. L'ho già raccontato. Quando ero a Cuba c'era questo palomino, che vuol dire colombino, che a Santiago diceva, era responsabile della gestione dell'autorità per il programma che facevano Roxy Barra a Santiago di Cuba. Eravamo, dopo aver cenato, eravamo su un terrazzo bello, in alto, all'aperto. E lui diceva, io so i libri, io sto i libri. Dico, no. E facciamo questa discussione sulla libertà. Queste belle discussioni che non si fanno più. Non si fanno più perché le persone sono messe così. Sempre così, no? E non c'è più la discussione, il confronto. Non c'è... Io dicevo, quello che ho appena detto, non esiste la libertà. Lui dice, no, io... Dico, ok, sei libero? Sì, io sto i libri. Sei libero? Sto i sorsi libero? Ok. Vola, palomino, vola. E lui... Vola, piccolo colombo, vola. E non poteva volare. Perché? Perché non hai le ali. Quindi sei già condizionato. Non sei libero di volare. E quindi... E dopo, a Cuba, quando arrivai a Lavana, a Belpredo già sapeva tutto. Vola, palomino, vola! E un giorno ero davanti, nella CAI A23, davanti all'ICAI, l'Istituto del Cinema, e sento dire, Vola, palomino, vola! Ed era lui. Era arrivato a Santiago a Lavana, ma due anni dopo, tre anni dopo. E io ci siamo abbracciati, e quindi... Non c'è la libertà. La nostra libertà è quella di fare il compito che ci siamo scelti. che ci siamo scelti.